Lo scorso 8 giugno alcuni lavoratori bitontini dipendenti dell'azienda ferramenta pugliese Sita Terlizzi hanno incontrato il sindaco di Bitonto Michele Abatico per presentare la propria avvertenza. L'11 maggio scorso infatti i 30 dipendenti per la maggior parte di Terlizzi ma anche di Bitonto, Grumo e Giovinazzo si sono presentati dinanzi ai cancelli dell'impianto terlizzese che compatta materiale ferroso derivante dagli scarti di automobili e hanno trovato chiuso senza ricevere alcun avviso dalla proprietà e rimanendo senza risposte sul loro futuro lavorativo. Sono mesi che noi cerchiamo di contattare la proprietà per capire l'evolversi della situazione aziendale e industriale e se hanno ancora intenzione di rilanciare la loro impresa ma da parte aziendale nessun riscontro. Dopo i primi due incontri avvenuti tra lavoratori e parti sociali, prima al Consiglio Comunale di Terlizzi poi con un sit-in davanti all'azienda si attendono riscontri oggettivi sulla questione. La questione, l'avvertenza dei lavoratori di Ferramenta Pugliese non deve rimanere ferma davanti ai cancelli ma deve diventare una questione di comunità, riguarda tutte e tutti e quindi noi in qualità di amministratori non possiamo limitarci a dichiarare solidarietà, è facile voglio dire non ci vuole nulla dichiarare solidarietà nei confronti dei lavoratori e della loro situazione. Bisogna stare con i lavoratori, capire le situazioni, approfondirle e cercare insieme a loro, insieme ai sindacati, delle soluzioni. I lavoratori infatti già nel dicembre 2019 erano stati messi in cassa integrazione per la crisi di settore, misura che si è poi prolungata da marzo per la pandemia quando l'azienda ha chiuso i cancelli senza mai più aprirli. Noi al momento stiamo cercando di capire se possiamo inserirci in eventuali ammortizzatori sociali straordinari, se questo non fosse possibile attiveremo e metteremo in campo tutto quello che è in nostro possesso per far sì che questi lavoratori abbiano di nuovo il diritto al lavoro. Proprio per garantire un effettivo aiuto per i lavoratori anche il consigliere comunale di Bitonto Francesco Brandi si è fatto promotore per agevolare un interessamento da parte della regione sull'avvertenza. Però noi saremo attenti perché laddove dovessero invece perdere anche questi ammortizzatori e questi aiuti subentriamo naturalmente facendo quello che per regolamento e secondo tutte le norme è possibile fare. Naturalmente l'accompagnamento è anche di carattere politico nel senso veramente migliore dei termini, cioè nel senso cerchiamo di accompagnare queste persone, di non lasciarle sole, consigliarle e trovare insieme una soluzione.